Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24, spento dopo dieci ore e un grosso incendio nell'area industriale di Melfi. Dopo circa dieci ore di lavoro dei vigili del fuoco è stato spento l'incendio che la notte scorsa ha distrutto il deposito di materiali di stoccaggio di uno stabilimento situato nell'area industriale di Melfi, nel Potentino. Gli indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli stessi vigili del fuoco per accertare l'origine del rogo. L'allarme è scattato intorno alle 21, sul posto hanno operato cinque squadre provenienti oltre che da Potenza e Melfi, anche da Pesco Pagano e Matera. Secondo quanto si è preso, nessuna persona è rimasta ferita perché l'azienda era chiusa per il periodo festivo. Il sindaco della città lucana Giuseppe Maglione ha contattato l'ARPAB per effettuare le analisi sull'eventuale danno ambientale. Ci sono stati degli arresti dopo quanto è accaduto allo stadio Iacovone di Taranto. Sono stati arrestati due presunti autori dell'incendio divampato allo stadio Iacovone il 3 settembre scorso durante la partita Taranto-Foggia. Si tratta di due tifosi foggiani finiti ora ai domiciliari. Le fiamme furono appiccate sotto la curva sud e distrussero circa 113 kg di materiali in plastica depositati nel settore ospiti, che sarebbero stati poi impiegati per il rifacimento della pista di atletica dello stadio. Una tragedia sfiorata poiché l'incendio ha compromesso le parti strutturali dello stadio, l'impianto elettrico e quello idrico. I due tifosi arrestati nelle scorse ore sono entrambi residenti a Foggia e hanno 28 e 29 anni. Dopo la partita, intorno alle 23, utilizzando un bengala, diedero fuoco ad alcune bobine di gomma. Secondo le indagini condotte dai poliziotti della Digos, l'incendio è da considerarsi come una vendetta nei confronti dei Tarantini, da far risalire addirittura ad uno sgarro compiuto nel 2006, quando lo scontro tra le tifoserie era particolarmente cruento. Durante una partita, infatti, i tifosi tarantini rubarono alcune bandiere del Foggia. Da qui confermano anche le intercettazioni. Sarebbe poi scaturita la vendetta. Lavoro in Basilicata aumentano le assunzioni, ma si tratta per lo più di lavoro precario. In Basilicata a dicembre sono state programmate 2.110 nuove assunzioni, un dato che segna un più 260 rispetto all'analogo mese del 2022 e che sembra confortante anche la luce della proiezione a febbraio 2024, che fa registrare un più 470 rispetto all'analogo trimestre dell'anno scorso. E' quanto rivela il nuovo bollettino mensile di Excelsior in forma, redatto da Ampal e dalle Camere di Commercio. Secondo la Camera di Commercio Lucana, nel 23% dei casi le entrate previste a dicembre saranno stabili, mentre nel 77% saranno a termine. Proprio alla luce di questi ultimi dati, secondo la Will, l'anno che sta per terminare è sempre più all'insegna del lavoro precario e povero. Per l'osservatorio sul precariato, con i dati diffusi dall'Inps, nei primi nove mesi del 2023, su 47.247 rapporti di lavoro instaurati in Basilicata, solo 6.311 sono a tempo indeterminato. Spiega il segretario Tortorelli, diminuiscono sensibilmente le assunzioni a tempo indeterminato in apprendistato e la temporaneità lavorativa sale, raggiungendo quasi l'80% dei rapporti di lavoro attivati. Per cui, occorrerebbe una riforma dove la regola per le assunzioni è quella del tempo indeterminato, lasciando alla contrattazione eventuali flessibilità. Secondo il rappresentante sindacale, contestualmente bisogna far pagare molto più di ora le assunzioni con contratti temporani, utilizzando l'extragettito per costruire una pensione di garanzia per i giovani con carriere discontinue. Parco della Rinascita nell'ex area Fibronit a Bari. I lavori inizieranno nel 2024 ad annunciarlo il sindaco Antonio De Caro in un post social e il regalo di Natale per la città. Questo è il regalo di Natale per Bari. Sono le parole che il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha affidato a un post sui suoi canali social per annunciare l'inizio dei lavori nel 2024 del Parco della Rinascita nell'ex area Fibronit. E' pronto infatti il progetto che trasformerà l'area dove sorgeva la fabbrica, che ha significato dolore e morte, in uno dei più grandi parchi della città. Nelle prossime settimane definiremo le migliorie con il comitato cittadino, scrive De Caro, con i progettisti e con l'azienda che si è giudicata la gara, così da poter partire con i lavori del nuovo anno. Il primo cittadino illustra i dati del progetto che vedrà sorgere il nuovo spazio verde nel quartiere Iapigia. 120.000 metri quadrati con oltre 2.000 nuovi alberi che al momento della piantumazione saranno già alti per garantire zone d'ombra al parco e trasformare quest'area in una vera e propria oasi verde nel centro cittadino, che grazie all'assorbimento della CO2 migliorerà la qualità dell'area del quartiere. De Caro spiega anche che all'interno dell'area saranno create delle zone dedicate allo sport, ai giochi per i bambini, agli eventi culturali e al tempo libero, guardando alle tendenze, alle novità delle ultime realizzazioni di parchi in siti riconvertiti di tutta Europa. Ogni centimetro di questo suolo già bonificato, afferma il primo cittadino barese, sarà restituito ai cittadini perché è a loro che per tanti anni questa fabbrica ha tolto l'aria e la vita. Dopo vent'anni, grazie al lavoro portato avanti con la Regione Puglia e il comitato cittadino Fibronit, oggi questo traguardo sembra sempre più vicino. Il lavoro, la sicurezza e meno difficoltà economiche sono i desideri dei foggiani per risalire dall'ultimo posto nella classifica nazionale. Cosa si aspetta dal 2024, in particolare anche per Foggia? Allora, prima di tutto mi aspetto la pace nel mondo, poi mi aspetterei un tantino più di educazione in questa città e rispetto, e poi una vita un tantino più rilassata, senza tante preoccupazioni. Dipende da noi giovani, dai, dipende tutto da noi, se ci mettiamo con la buona volontà, buone prospettive, dai sì, perché no. La mancanza di rassegnazione per l'ultimo posto nella qualità di vita spinge i foggiani a desiderare la ripresa per il prossimo anno. Foggia ce la può fare a riprendersi un po'. Speriamo, dopo molto tempo mi auguro che ce la faccia. Da chi dipende? Da noi, cittadini. Le potenzialità ci sono, solamente avere la capacità di poterle farle affiorare. Io mi aspetto che l'amministrazione comunale dia un significato migliore a questa città. Il margine secondo me c'è, poi adesso vediamo. Lavoro, servizi, sicurezza urbana, ma anche meno precarietà economica nelle famiglie. Lavoro per i giovani, un futuro migliore, tanta pace e serenità per la città di Foggia e per le persone che si trovano in difficoltà con le famiglie. Mi aspetto tanto lavoro e soprattutto l'infracimento delle strade, perché una città senza strade, una città fiorente, una città commerciale come Foggia, ha bisogno di strade. Il 2023, per me va benissimo. Perché è andato bene? Perché è andato bene, sì, è stato un ottimo anno. E di buoni auspici per il nuovo anno hanno la voce di chi è così tanto famoso da spingere Foggia in alto. Sicuramente spero sia un anno ottimo per la nostra città. Io mi reputo una persona fortunata e spero che ci sia un po' di ondata positiva per questa città che merita tanto, che è la più bella d'Italia. Basilicata, premio regionale Olivarum, al via la ventesima edizione del concorso che premia i migliori oli extravergine di oliva prodotti sul territorio lucano. Ai nastri di partenza la ventesima edizione del premio regionale Olivarum, annata 2023-2024, per i migliori oli extravergine di oliva prodotti sul territorio lucano. Fino al 27 gennaio 2024 sarà possibile poter rinviare i campioni di olio Evo da sottoporre alla giuria del panel test di Metapontum AgroBios, che effettuerà la selezione sulla base dell'analisi sensoriale e della valutazione organolettica degli oli in competizione. Il concorso nasce per valorizzare i migliori oli regionali e punta alla crescita continua della qualità delle produzioni sul mercato nazionale e internazionale, favorendone la competitività e il miglioramento a vantaggio dei consumatori che scelgono gli oli di eccellenza lucani. Il concorso è emanato dalla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della regione Basilicata, con la collaborazione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, ed è aperto agli olivicoltori e o produttori di olio singoli o associati che operano sul territorio della regione Basilicata con oli prodotti nella campagna agraria 2023-2024. I vincitori avranno la priorità per la partecipazione al Salone Internazionale dell'Agro Alimentare di Qualità, nello stand collettivo che la regione Basilicata allestirà a Verona dal 14 al 17 aprile 2024, oltre ad esporre la propria produzione al Cultural Festival della Cultura Alimentare Italiana in programma a Matera dal 16 al 18 marzo 2024. Nell'ambito del concorso ulteriori menzioni speciali verranno assegnate ai migliori oli appartenenti alle specifiche categorie di Grande Produttore, Mono Varietale, Biologico, Dop Vulture, IGP Olio Lucano, Prodotto di Montagna. In chiusura lo sport finisce in parità 1-1 tra Sampdoria e Bari, a Sibili risponde Esposito. Non è bastato un gol di Sibili all'ottantesimo a regalare al Bari un importante successo esterno contro la Sampdoria. I biancorossi, impeccabili fino al novantesimo, hanno subito la doccia fredda in pieno recupero firmata dall'ex Sebastiano Esposito. E' finita infatti 1-1 il posticipo della 19esima giornata di Serie B al Ferraris di Genova tra Galletti e Blucerchiati. Lo spettacolo del gemellaggio tra le due tifoserie ha rispecchiato anche le prime fasi di gioco in campo. Ritmi subito alti e tante conclusioni da una parte e dall'altra. L'occasione più nitida per il Bari è arrivata dai piedi di Ejouma, il migliore tra i suoi nel primo tempo. Il suo tiro al volo viene disinnescato da Strankovic. Meglio per larghi tratti della prima frazione gli ospiti, ma sono i blucerchiati a avere l'occasione migliore su punizione, con Esposito alla 47esimo. L'ex Biancorosso ha scheggiato l'incrocio dei pali a Brenno battuto. Nella ripresa è ancora Sebastiano Esposito a spaventare il Bari al 56esimo con un tiro da posizione centrale che lambisce il palo. Al 64esimo Marino fa entrare in campo Menezza al posto di Nasti ed è proprio il fantasista francese in contropiede a inventare la giocata decisiva per il gol di Sibiglia all'ottantesimo. I ragazzi di Marino sembrano gestire senza affanni il vantaggio, ma al 92esimo Sebastiano Esposito sfrutta al meglio l'una incertezza degli avversari per riportare il punteggio in parità. Al 95esimo Menezza viene espulso per doppio giallo dopo un prolungato battibecco con il direttore di gara, il signor Marinelli di Tivoli. E l'ultima emozione della partita, Sampdoria Bari finisce 1-1. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.